Salve a tutti amici di Professione LED, oggi parliamo di come poter ripristinare l'impermeabilità di una striscia LED IP67 e IP68. Queste strisce sono caratterizzate dal fatto di essere contenute in un tubetto siliconico. Come potete vedere la striscia si trova proprio dentro un tubo siliconico. Ovviamente può capitare di doverla tagliare per dover fare delle curve, perché la dobbiamo accorciare e quant'altro, e ci troviamo in questa condizione, cioè con la striscia esposta fuori dal tubo siliconico. Di fabbrica, quindi dall'altro capo, la striscia si trova in queste condizioni nel 99% dei casi. Quindi c'è un tubetto, poi c'è il suo cappuccetto e i fili che escono fuori, loro hanno messo del sigillante, messo il tappetto e quindi questo è perfettamente impermeabile. Però questi cappuccetti spesso non sono disponibili, oppure magari ce n'è uno o due e non ne servono di più. Come facciamo a ripristinare questa condizione in questo altro spezzone di striscia? Io cercherò di farvi vedere la soluzione che noi adoperiamo molto spesso e soprattutto lo possiamo fare con le cose che quasi tutti abbiamo a disposizione. Quindi con della guaina termorestringente, con del silicone sigillante. Adesso vi faccio vedere come opererò per ripristinare l'impermeabilità di questo spezzone di striscia. E quindi collegare due fili per poi poter fare una curva e così via. Allora, una volta che noi abbiamo la nostra striscia tagliata, prenderemo magari un paio di pinze e cercheremo con, senza rovinarla, di tirar fuori leggermente dove dobbiamo saldare. Con la terza mano ci aiutiamo e blocchiamo la parte che siamo riusciti ad esporre. Fatta questa operazione qui, andiamo a dare un pochino di stagno nella zona che abbiamo esposto, così da prepararla alla saldatura. Ecco qui, come potete vedere abbiamo dato lo stagno a questi due punti di giunzione. Cosa facciamo a questo punto? Andiamo a mettere i fili, a saldare i fili sulla parte che abbiamo esposto. Quindi prendiamo i nostri fili che c'eravamo precedentemente preparati. Vedete, io li ho già stagnati in modo tale da velocizzare tutta la questione. E andiamo a saldarli sulla nostra striscia. Quindi andiamo a dare un po' di calore. Uno E due Ovviamente ci vuole un pochino di mano per fare questa roba qui, ma abbiamo altri video che potete andarvi a vedere nei quali vi spiego esattamente come fare questo tipo di operazioni. A questo punto abbiamo la nostra striscia con la saldatura fatta. Quindi abbiamo i fili saldati sulla striscia E abbiamo la possibilità di, muovendola, vedete, far rientrare il tutto nella guainetta siliconica di fabbrica. A questo punto interviene il nostro termorestringente. In questo caso è da circa 13 mm. Lo inseriamo E lo facciamo scorrere. Lo inseriamo nella guainetta sua siliconica. E lo facciamo scorrere un pochino più avanti così. Ok? Ci siamo? Vedete dove si trova la guaina termorestringente? E qui abbiamo il nostro Il nostro punto di saldatura. Allora, prendiamo il silicone Adesso io cercherò di Un attimino allungo qui in modo tale che si rimetta a posto. Ecco qua. Lo rientriamo bene qui. E diamo un po' di silicone qui nella parte iniziale. Guardate. Vedete come ho fatto? Ecco qua. A questo punto portiamo indietro La guaina Che prenderà Farà da Contenitore anche del Silicone sigillante. A questo punto potremmo anche Portandolo poco poco così più avanti Guardate. Dargli ancora del silicone sigillante. Andiamo proprio a riempire bene. Ecco qua. E poi lo andiamo a portare ancora indietro. Guardate. Lo lasciamo a circa Diciamo un dito Diciamo sopra la La parte già esistente di guaina siliconica. E qui abbiamo riempito Questo è totalmente riempito di silicone. Prendiamo poi la nostra Pistola Ad aria calda E andiamo a far ritrarre la guaina. Ovviamente lo mettiamo Alla posizione 1 In modo tale da non fare troppo calore E anche da non Diciamo rovinare Voi vedete che La guaina ovviamente Comincerà a ritrarsi Ok? Ovviamente un po' di silicone uscirà Ma non fa niente Significa anzi che sta facendo bene il suo lavoro Ed ecco qui che abbiamo finito Avete visto? Guardate adesso se riusciamo a fare una zoomata Ancora più vicino Guardate che bel lavoro che abbiamo fatto Siamo riusciti a ripristinare Adesso qui un attimino Lo faccio anche Lo faccio arrivare ancora un po' meglio Ecco qua Abbiamo ripristinato La parte sigillata Della striscia Che abbiamo dovuto tagliare Ecco qua Io adesso questo qui non lo tocco Questa parte qui Aspetto che si asciuga In modo tale che poi Lo posso magari togliere piano piano Oppure se non è indispensabile Lo lascio così Gli fate a tappo Anche se non è bellissimo a vedersi E vedete abbiamo risolto A casa un problema Semplicemente con del silicone E con la guaina termorestringente Da quest'altra parte qui Possiamo collegare O nuovamente un altro spezzone Perché dobbiamo fare delle curve e quant'altro Quindi ripetiamo da questa parte qui Quello che abbiamo fatto qui Oppure se ci serve solo da collegarlo Lo possiamo collegare tranquillamente Oppure addirittura Se non utilizziamo il filo Possiamo anche realizzare Una chiusura ermetica Solo con la guaina termorestringente E col silicone Io spero di esservi stato utile Come sempre Se avete delle cose da dire Li aspetto nei commenti Grazie di averci seguito Lasciate un like Iscrivetevi al mio canale E ci vediamo al prossimo video tecnico Arrivederci